L'auto di oggi è una Fiat Panda, versione Easy, con un motore 1.2 benzina da 69 cavalli. La sua data di immatricolazione è novembre 2017 ed è un chilometro zero, colore grigio colosseo. Cerchi in acciaio anteriori e posteriori da 14 pollici. Al suo interno possiamo trovare una radio con bluetooth, clima, cambio a 5 rapporti ed un volante in pelle. L'auto è disponibile presso il parco usato della Concessionaria Fiorin via della Maglianella numero 35. È possibile visionarla anche sul sito www.concessionariafiorin.it e per qualsiasi informazione potete contattare il numero 06 32 693.